Capitolo 14. Tredici anni. La prima volta in cui lo fecero, pensavano che non ce ne fossimo accorti. Si comportarono in maniera piuttosto sciocca, perché quella era una delle poche sere in cui eravamo tutti a casa. Eravamo in salotto. Conrad stava ascoltando la musica con le cuffie e Jeremiah e Steven giocavano ai videogiochi. Io ero seduta in poltrona a leggere Emma, soprattutto perché pensavo che mi facesse apparire intelligente, non perché mi piacesse veramente. Se avessi voluto leggere sul serio, mi sarei chiusa a chiave in camera mia con Fiori senza sole o cose del genere, e non con Jane Austen. Penso che fu Steven a sentirne per primo l'odore. Si guardò attorno, sniffando come un cane, e poi chiese. Lo sentite anche voi? L'avevo detto di non mangiare tutti quei fagioli, Steven, rispose Jeremiah con gli occhi fissi sullo schermo della tv. Io ridacchiai, ma non era quel genere di odore. Lo sentivo anch'io. Era marijuana. È marijuana, gridai. Ci tenevo a essere la prima a dirlo, per dimostrare quanto fossi sofisticata e disperta. Figurati, ribatteggere Maya. Conrad si tolse le cuffie e disse. Belli ha ragione, è marijuana. Steven mise in pausa il gioco e si voltò a guardarmi. E tu come conosci l'odore della marijuana, Belli? Mi chiese con aria sospettosa. Perché io mi drogo dalla mattina alla sera, Steven? Sono strafatta, non lo sai? Odiavo quando Steven faceva la parte del fratello maggiore, specialmente di fronte a Conrad e Jeremiah. Era come se volessi umiliarmi di proposito. M'ignorò. Viene dal piano di sopra? È mia madre, rispose Conrad, rimettendosi le cuffie. Per via la chemio. Mi accorsi che Jeremiah non ne sapeva nulla. Non aprì bocca, ma apparve confuso e perfino ferito dal modo in cui si grattò la nuca e fissò il vuoto per un minuto. Steven e io ci scambiamo un'occhiata. Ogni volta che spuntava fuori il tumore di Susanna, per noi due era imbarazzante essere estranei e tutto il resto. Non sapevamo mai cosa dire, perciò non dicevamo nulla. Fingevamo per lo più che non stesse succedendo, come faceva Jeremiah. Mia madre invece no. Lei era concreta, calma, in tutte le cose. Susanna diceva che mia madre la faceva sentire normale. Mia madre era brava a far sentire le persone normali, a farle sentire al sicuro, a convincerle che finché ci fosse stata lei non sarebbe accaduto niente di brutto. Quando scesero al piano di sotto, ridacchiavano come due adolescenti che avevano sgraffignato i liquori dei genitori. Era chiaro che mia madre aveva preso parte alla fumata. Steven e io ci scambiamo un'altra occhiata, stavolta scandalizzata. Mia mamma era probabilmente l'ultima persona sulla terra che avrebbe fumato erba, a parte sua madre, che chiamavamo nonnetta. Vi siete mangiati tutte le patatine? Chiese mia madre, ruvistando in un mobiletto. Sto morendo di fame? Sì, rispose Steven. Non riusciva neppure a guardarla. Perché non prendi quel pacchetto di popcorn? Le ordinò Susanna, avvicinandosi da dietro alla mia poltrona. Mi sfiorò con delicatezza i capelli, un gesto che adoravo. Susanna era molto più affettuosa di mia madre da quel punto di vista e mi definiva sempre la figlia che non aveva mai avuto. Amava condividermi con mia madre e a mia madre non dava fastidio, e neppure a me. Ti sta piacendo Emma? Mi chiese. Susanna sapeva darti così tanta attenzione da farti sentire la persona più importante nella stanza. Aprì la bocca per mentire e raccontare quanto lo trovassi fantastico, ma Conrad gridò. In un'ora non ha girato neppure una pagina. Aveva ancora le cuffie alle orecchie. Gli lanciai un'occhiataccia, ma dentro di me ero eccitata dal fatto che lo avesse notato. Una volta tanto mi aveva osservata. Ovviamente non gli era sfuggito quel particolare. Conrad notava tutto. Conrad avrebbe notato se il cane del vicino aveva più croste sull'occhio destro che sul sinistro, o se il tizio che consegnava le pizze a domicilio guidava un'auto diversa. Conrad non ti notava perché era interessato a te. Lo faceva e basta. Andando avanti comincerai ad apprezzarlo, mi assicurò Susanna, accarizzandomi la frangetta. Io ci metto sempre un po' ad appassionarmi a un libro, risposi con un tono che pareva di scusa. Non volevo che ci restasse male, visto che mi lo aveva consigliato lei. A quel punto mia madre entrò nella stanza con un pacchetto di liquirizie e un pacchetto di popcorn mangiato per metà. Lanciò il pacchetto di caramelle a Susanna e disse, in ritardo, «Prendi qua!» Susanna allungò le braccia, ma il pacchetto cadde a terra e, mentre lei lo raccoglieva, si mise a ridacchiare. «Che imbranata che sono!» disse, masticando un'estremità della liquirizia come fosse un filo di paglia. «Che mi hai preso?» «Mamma, lo sanno tutti che al piano di sopra vi siete fumate l'erba!» rispose Conrad, muovendo lievemente la testa al ritmo della musica che solo lui sentiva. Susanna si coprì la bocca con una mano. Non disse nulla, ma parve sinceramente turbata. «Ops!» fece mia madre. «Siamo state scoperte, Beck! Ragazzi, vostra madre assume della marijuana medicinale per alleviare la nausea della chemio!» Steven, senza distogliere lo sguardo dalla tv, replicò, «E tu, mamma? Anche tu ti fai le canne per via della chemio?» Sapevo che stava cercando di alleggerire l'atmosfera e ci riuscì. Steven era bravo in questo. Susanna soffocò una risata e mia madre tirò a mio fratello un popcorn che lo colpì sulla nuca. «Spiritoso! Io offro un sostegno morale alla mia migliore amica. Ci sono cose peggiori!» Steven raccolse il popcorn, gli scosse via la polvere e se lo infilò in bocca. «Allora ti sta bene se fumo anch'io, giusto? Potrei farlo quando ti verrà il tumore al seno», gli rispose mia madre, scambiando un'occhiata con Susanna, la sua migliore amica. «O quando verrà al tuo migliore amico?» aggiunse Susanna. Durante tutto quel tempo, Jeremiah non disse una parola. Continuò a guardare in modo alterno Susanna e la tv, quasi avesse paura che sua madre svanisse nel nulla mentre lui era di spalle. «Quel pomeriggio le nostre madri pensavano che fossimo tutti in spiaggia. Non sapevano che io e Jeremiah ci eravamo annoiati e avevamo deciso di tornare a casa per fare merenda». Mentre salivamo i gradini del portico, le sentimo parlare attraverso la zanzariera. Jeremiah si fermò quando udì Susanna a dire «Laurel, odio anche solo pensare una cosa del genere, ma preferirei quasi morire piuttosto che perdere il seno». Jeremiah smise di respirare e rimase immobile ad ascoltare. Poi si mise a sedere e io feci altrettanto. Mia madre rispose «So che non lo pensi sul serio». Io odiavo quando mia madre diceva così e immagino che anche a Susanna desse fastidio perché ribatte «Tu non puoi sapere cosa penso». E fu la prima volta che la sentì usare un tono così duro e irato. «D'accordo, d'accordo, scusa». Allora Susanna si mise a piangere e anche se non lo vedevamo, sapevo che mia madre le stava massaggiando la schiena, come faceva con me quando ero arrabbiata. Avrei voluto fare altrettanto a Jeremiah. Sapevo che lo avrebbe fatto stare meglio, ma non ci riuscì. Al contrario, allungai il braccio, gli afferrai la mano e gliela strinsi forte. Lui non mi guardò, ma neppure si liberò della presa. Fu quello il momento in cui diventammo veri amici. A quel punto mia madre dichiarò, con tono serissimo e impassibile, «In effetti sarebbe un peccato. Hai delle tette fantastiche». Susanna emise una strana risata, che sembrava il verso di una foca, e poi scoppiò a ridere e a piangere allo stesso tempo. Tutto sarebbe tornato a posto. Se mia madre scherzava e Susanna rideva, tutto si sarebbe sistemato. Lasciai la mano a Jeremiah e mi alzai in piedi. Lui fece altrettanto. Tornammo in spiaggia senza dire una parola. «Cosa avrei dovuto dire? Mi dispiace che tua madre abbia un tumore? Spero che non le tolgano una tetta». Quando raggiungemmo il nostro tratto di spiaggia, Conrad e Steven erano appena usciti dall'acqua con le loro tavole da surf. Non avevamo ancora detto una parola, e Steven lo notò. Penso che lo notò anche Conrad, ma non disse niente. Fu Steven a chiedere, «Che avete, ragazzi?» «Niente», rispose io, tirandomi le ginocchia al petto. «Per caso vi siete dati il primo bacio?» insistette lui, scuotendosi via l'acqua dal costume e schizzandomi le ginocchia. «Taci», gli ordinai. Mi venne la tentazione di abbassargli i pantaloncini, tanto per cambiare argomento. L'estate passata, ai ragazzi era venuta la fissa di abbassarsi i pantaloni a vicenda in pubblico. Io non avevo mai preso parte alla cosa, ma in quell'attimo avrei davvero voluto farlo. «Accipicchia, lo sapevo!» proseguì, dandomi un colpetto sul braccio. Io lo allontanai con un'alzata di spalle e gli ordinai nuovamente di tacere. Cominciò a cantilenare. «All'amore!» «Steven, smettila di fare lo scemo!» dissi, iniziando ad alzare gli occhi al cielo. Ma a quel punto, Jeremiah si alzò in piedi, si scosse la sabbia dal costume e andò verso l'acqua, allontanandosi da noi, dalla casa. Stephen lo chiamò. «G Jeremiah, hai per caso il ciclo? Dai, scherzavo!» Jeremiah non si voltò. Continuò ad avvicinarsi alla riva. «Dai!» «Lascialo stare», gli disse Conrad. I due non erano mai parsi particolarmente vicini, ma c'erano momenti in cui mi accorgevo di quanto si capissero e questo era uno di quei momenti. Vedere Conrad comportarsi in modo protettivo con Jeremiah mi fece provare un'ondata d'amore che quasi mi travolse. Mi sentì in colpa. Per quale ragione dovevo avere una cotta quando Susanna aveva un tumore? Mi accorsi che Stephen ci era rimasto male ed era anche confuso. Non era da Jeremiah andarsene così. Lui era sempre il primo a ridere, a ricambiare la battuta e visto che volevo mettere il dito nella piaga, dissi «Sei proprio un imbecille, Stephen!» Lui mi guardò a bocca aperta. «Accidenti, ma cosa ho fatto?» Lo ignorai. Tornai a sdraiarmi sul telo da mare e chiusi gli occhi. Desiderai avere gli auricolari di Conrad. Volevo dimenticare quella giornata. Più tardi, quando Conrad e Stephen decisero di andare a pesca, Jeremiah rifiutò l'invito, anche se amava moltissimo pescare di notte. Cercava sempre di convincere le persone ad andare con lui. Quella sera disse che non ne aveva voglia. Così gli altri due se ne andarono e Jeremiah rimase a casa con me. Guardammo la tv e giocammo a carte. Io e lui passammo gran parte dell'estate a fare quelle due cose. Il nostro rapporto si rafforzò. Certe mattine ci svegliavamo presto e andavamo a raccogliere conchiglie o granchi di sabbia, oppure facevamo quasi cinque chilometri in bici per andare in gelateria. Quando eravamo da soli, lui faceva meno il simpatico, ma era comunque Jeremiah. Da quell'estate iniziai a sentirmi più vicina a lui che a mio fratello. Jeremiah era più gentile, forse perché anche lui era un fratello minore, o forse solo perché era fatto così. Era gentile con tutti. Aveva il dono di far sentire le persone a proprio agio.